Dobbiamo aiutarci a diventare dei safety players Benvenuti ai corsi certificati safety players Per comunicare al meglio quello a cui teniamo Salutate SP Ciao Siamo in azienda, secondo voi il preposto dove lo mettiamo? A fare il mediano? Safety players è questo tentativo Di insegnare la sicurezza come fosse una disciplina Mettiamo che siamo in cantiere Il direttore lavori dove lo posizioniamo? Si capisce? Bene, ok Iscrivetevi al canale, mettete un like alla pagina E ci vediamo al prossimo video Corsi certificati safety players Salutate SP Ciao, alla prossima Ciao, alla prossima